buongiorno questo video per illustrare una operazione di trading che ho appena concluso sul mercato italiano sul future fuzzimib oggi martedì primo marzo questa mattina operazione short operazione intraday fatta grazie all'indicatore confluenza che è un indicatore proprietario di mia creazione ma disponibile anche eventualmente agli abbonati per informazione basta consultare il sito internet www.strategieditrading.it l'indicatore confluenza è costituito da una serie di istogrammi verticali come qui evidenziato nel video che vengono posizionati nella parte bassa di un grafico si possono assumere due tre anzi tipi di colorazione se sono verdi questi istogrammi significa che bisogna aprire una posizione long se sono rossi bisogna aprire invece una operazione short se sono gialli invece bisogna rimanere in posizione flat quindi non avere posizione aperte o meglio chiudere le precedenti posizioni o long o short che siano quindi verde rosso e giallo esattamente più o meno con lo stesso concetto del semaforo long short oppure fuori dal mercato che cosa è successo questa mattina è successo che alle ore 9 l'indicatore confluenza è diventato rosso e quindi subito in apertura la candela successiva alle 9 0 5 sul livello 25 mila e 305 ho aperto la posizione e short il mercato ha tentato un pullback sulla media mobile poi per fortuna ha cominciato a scendere a scendere lo ha fatto costantemente lo ha fatto anche in modo molto importante lo ha fatto anche oltre quelle che erano le mie personali aspettative d'altro canto siamo in guerra tra russa ucraina e c'è molta volatilità sul mercato per cui è chiaro che le escursioni di prezzo se prima della guerra erano attorno ai 200 o 300 punti al giorno adesso sono diventati 400 500 in certi casi anche 1000 punti al giorno e quindi anche in questo caso target e purtroppo stop loss sono tutti molto più ampi e molto più grandi comunque il mercato è sceso molto bene quindi la previsione fatta dall'indicatore confluenza che ha ben individuato il movimento ribassista del mercato io sono sempre rimasto in posizione short perché cinque minuti dopo cinque minuti questo grafico cinque minuti le istogrammi dell'indicatore confluenza si confermavano rossi e quindi mi indicavano di dover rimanere in posizione short fino a quando alle 11 e 40 l'indicatore confluenza non è diventato giallo quindi mi stava ad indicare che dovevo uscire dalla posizione short e mettermi in posizione flat cosa che ho fatto in apertura della candela successiva sul livello 24.870 e quindi qui ho chiuso la mia operazione short intraday da 25.305 a 24.870 per un ottimo guadagno di 435 punti che in euro lordi corrispondono a 2.175 quindi 2.175 euro lordi di guadagno in due ore di contrattazione con questa operazione che appunto ha durato due ore certamente non è tutti i giorni così non tutte le operazioni sono così ci tengo a precisarlo ma data la situazione di mercato della guerra in corso e di questo grosso aumento della volatilità è tutto aumentato è tutto amplificato oserei dire tutto raddoppiato quindi sono raddoppiati le possibilità di guadagno in termini assoluti purtroppo se le cose non vanno bene sono anche raddoppiati in valore assoluto gli stop loss e quindi le perdite però c'è un aumento di volatilità e tutti gli ammontari target stop loss eccetera sono tutti amplificati comunque quando va bene va molto bene come ci è andata e mi è andata in questa operazione poi vedremo nel pomeriggio che cosa succede ma anche con elevata volatilità l'indicatore confluenza dimostra di funzionare particolarmente bene io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e grazie a tutti buon trading